è un mariani pavone vestito a festa quello che accompagna il pineto nella terz'ultima giornata di serie c nella regular season del girone b arriva la juventus next generation davanti ai biancazzurri del presidente brocco un'occasione in realtà da non perdere per il club di mister beni per provare a centrare la corsa playoff il pineto parte bene e al diciassettesimo minuto trova il centro dell'uno a zero con questa bella percussione di villa nei 60 secondi successivi però la juventus trova l'immediato pareggio con un'azione strabiliante da parte di nonge che mette secolo in condizione di battere in porta per il centro dell'uno a uno occasioni da un lato e poi dall'altro nel corso di un primo tempo divertente nonostante il gran caldo c'è questa bella battuta in porta da parte di manu ben respinta da fara nella ripresa il pineto si rende molto pericoloso e va ad un passo dal nuovo vantaggio con questo bel mancino da parte di volpicelli poi la juventus su un'azione di contropiede al 72esimo mette anghele in condizione di battere tonti per quello che è un inatteso verrebbe da dire uno a due il pineto prova fino alla fine a trovare il pari qui c'è ancora un calcio di punizione da parte di volpicelli il suo sinistro viene respinto ancora una volta da da fara nel finale occasione per la juventus poi gli ultimi lanci del pineto non portano al centro del 2 a 2 la sconfitta smorza la corsa verso il playoff del club di mister beni la salvezza però è saldamente nelle mani del club adriatico Música 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 Música